Oroscopo 2023 Sagittario Oroscopo annuale 2023 del Sagittario minore IMG Alt uguale Oroscopo 2023 Sagittario Border uguale 0 data original 8 uguale 981 data original 8 uguale 1739 8 uguale 181 src uguale htps2.i0 www.blogger.googlosercontent.com barra ing barra v barra r29 vz2x l barra avxbxg1 nccdcppmvzm92 f9 nbvci lunga qi lunga h trattino gg1 mvdb4 n0m trattino basso rmr0 qqvs06 kt4 fq8 dtl7 mg qt0 e jesspixi 9i4 nvhkd4 accounts qbox gmtmxk0 cp0 goko 7i lunga xqzs nfr994 wire 59fcq walkbox nrmn2 zpixxrmr2 l6 icoc9 jtacun94 boki barra ww320 trattino h181 barra oroscopo trattino sagittario trattino 2023 png resizze uguale 320 per cento 2 c 181 cancelletto 38 ssl uguale 1 title uguale oroscopo 2023 sagittario wit uguale 320 data recalc dims uguale 1 maggiore sarà l'anno dei turbamenti interiori l'autostima inizierà a vacillare perché mancheranno dei punti di riferimento importanti le parole del partner perderanno il loro effetto e anche l'amore non porterà le soddisfazioni desiderate i primi mesi del 2023 saranno abbastanza positivi mentre i restanti enfatizzeranno le difficoltà una ripresa inaspettata avverrà a partire da novembre lavoro raccoglierai i frutti del tuo impegno in modo incostante ti renderai conto di dover cambiare approccio per raggiungere il traguardo desiderato gennaio e febbraio saranno favorevoli per via dell'energia accumulata però a partire da marzo le cose cambieranno ti sentirai meno stimolato e non avrai più tanta voglia di sottoporti a massacranti turni di lavoro l'estate ti consentirà di prendere in considerazione un aspetto spesso trascurato il rispetto per l'interiorità amore il 2023 ti metterà alla prova il rapporto di coppia sarà altalenante marzo aprile e maggio ti spingeranno a porti molte domanda mentre settembre ottobre risveglieranno qualcosa di inaspettato reagirai in modo particolare alle esternazioni del partner in alcuni momenti non avrai voglia di parlare mentre in altri non riuscirai a trattene il tuo punto di vista vita affettiva sarai molto legato ai tuoi amici la loro presenza riuscirà a farti superare anche i momenti più difficili li metterai al primo posto insieme alla tua famiglia sarai poco propenso ad accettare i consigli altrui ma ti piacerà ricevere premure e affetto i colleghi di lavoro potrebbero sollevare alcune obiezioni soprattutto di tipo organizzativo starà a te cercare di non far degenerare la conversazione